Nulla di scontato nelle elezioni amministrative nella Piana. Si votava a Gioia Tauro, dove erano cinque i candidati a contendersi la poltrona di primo cittadino. Nessuna elezione a prima botta, come si direbbe, ma si è arrivati a un ballottaggio tra il candidato di centrodestra, con una serie di liste civiche Giuseppe Pedà, e Aldalessio, candidato del PD e del centrosinistra. L'esponente di Forza Italia raggiunge il 35%, mentre il battagliero Aldo Alessio si attesta al 24%. Buono il risultato di Rosario Schiavone, indipendente di destra, che agguanta un 14%, mentre al terzo e quarto posto si classificano il candidato centrista Giuseppe Zappalà e il sindaco uscente Renato Bellofiore. A Polistena gli elettori hanno premiato il sindaco uscente Michele Tripodi, con un sonante 57%. I 3.631 polistenesi, con il secondo mandato conferito a Tripodi, hanno voluto dare continuità all'azione amministrativa intrapresa dal sindaco nei precedenti cinque anni. Al secondo posto si classificano Michele Spanò, con la sua reazione civica raccogliendo 2.015 voti di lista e staccata di tanto la candidata di centrosinistra Anna Giancotta, con circa 700 voti. Ma la vera sorpresa è arrivata a cinque frondi, con il candidato di sinistra Michele Conia, che ha ribaltato la situazione mandando a casa il sindaco uscente di centrodestra Marco Cascarano, 1.224 voti contro i 1.700 voti raggiunti dalla lista di Conia, staccato il candidato del PD Michele Galimi. Si votava anche in piccoli centri come Molocchio, Anoia, Maropati, Giffone. A Molocchio ho confermato il sindaco uscente Beniamino Alessio, ad Anoia il sindaco è Alessandro De Marzo, mentre a Maropati prevale Fiorenzo Silvestro, a Giffone prevale invece Antonino Cutri. A Dele Nova, centro più grande, vince Francesco Rossi su Giuseppe Federico e Saverio Tripodi.